Ancora casi di abbandono indiscriminato di rifiuti si segnalano nel Vallo di Diano. Gli ultimi due episodi in ordine di tempo si sono verificati nei comuni di Monte San Giacomo e di Buon Abitacolo. La situazione ora è tornata alla normalità, le zone interessate sono state ripulite, ma restano purtroppo i comportamenti scorretti nei confronti dell'ambiente e della comunità. A Monte San Giacomo, dopo la segnalazione da più parti di cumuli di rifiuti abbandonati ai margini della strada Accio San Rocco, l'amministrazione ha provveduto a farli rimuovere, cercando di risalire ai responsabili. Si sta procedendo nel fare la selezione, ha spiegato il sindaco Raffaele Accetta, alla ricerca di qualche indizio, come pure a formalizzare una regolare denuncia contro i gnoti. Così come abbiamo fatto in tante altre occasioni, facciamo appello a tutti, chiedendo la collaborazione nel segnalare eventuali irresponsabili, perché tali sono questi che lasciano i rifiuti lungo le strade. Dalla visione delle telecamere, ha spiegato ancora il sindaco, non sono stati notati passaggi di mezzi con quel quantitativo di rifiuti, questo fa ipotizzare che potrebbero essere anche estranei che vengono da altri comuni. Proviamo questa volta, ha concluso, ad approfondire le ricerche per stroncare questo ignobile, assurdo e ingiustificato gesto. Rifiuti abbandonati anche a buon abitacolo, dove l'area picnic della Pineta è stata lasciata piena di spazzatura di ogni genere. Registrare atti di inciviltà come questi, affermano dal Comune, produce sempre tanta tristezza. Che senso abbia i vaccare in parchi sporchi? Nessuno trascorrerebbe del tempo in una discarica. La nostra Pineta è un luogo meraviglioso, dove è piacevole sostare e richiesta a tutti una maggiore cura degli spazi pubblici, affinché ne possiamo godere tutti. Il sindaco Giancarlo Guercio ha però anche evidenziato il gesto ammirevole di altri concittadini, che hanno a cuore la tutela dei beni e degli spazi pubblici e che, con grande senso civico, hanno deciso di ripulire volontariamente la Pineta dall'immondizia.